no 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 si si finestra aperta e mela questa è merda questa è merda no 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 questa è la colpa del buco dello solo è la colpa della puzza nel mio ufficio è colpa di questa cosa qua due sane sigarette due sane sigarette due sane sigarette allora le tende e questo tappeto sono tornati oggi dalla tintoria perché dopo la tua presenza costante gradevole nel mio ufficio la mia segretaria di sua sponte questa ammassa la gente no no questa area in locale prima di soggiornarvi non potete capire che cos'è ammassa questa è questa è una persona volgare ammassa la gente perché non è possibile che dopo un anno era tutto a posto in pochi giorni le mie segretari hanno detto signori stori ci siamo permessi di mandare tutto a lavare era l'ora di lavare le tende vogliamo dire che forse hai accelerato il fenomeno il tappeto non lo so che cosa è le tende posso io non ecco accelerato il fenomeno nella maniera ma signori no voi non vi rendete conto che cos'è questa cosa non vi rendete conto è apple zest è mela verde a contrastare una situazione questa è benzina verde non è mela verde a contrastare una situazione complessa di permanenza di fumo allora prima di tutto non usiamo questi queste cose americane apple zest me già americani no vabbè però non usiamo se non è andata in cuore se non lo so male 19 e 20 20 minuti prima di mi è andata in cuore mi è andata in cuore meglio così sei una brutta persona sei una brutta adesso chiuderà la finestra come il minimo ora lui chiuderà io sono dovuto aprire la finestra io ti do la guerra buona festa del papà povero vecchio io ti do la guerra sei un povero vecchio padre, viva la vita sei un ciccione, basta è verità